Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda in coloro che si aprono a Dio, che accolgono di essere amati da Lui. E il Signore nella storia ha voluto manifestare se stesso attraverso il Figlio suo, Gesù Cristo, che è venuto a prendersi i nostri peccati. Non è venuto a condannarci, a giudicarci, a punirci, è venuto a prendersi per ordine di Dio Padre e la nostra colpa, il nostro peccato, l'ha fatto ricadere su di sé. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostra favore affinché noi per mezzo di Lui diventassimo giustizia di Dio, cioè senza colpa, senza peccato. E questo è il gesto, fratelli, che tutti dobbiamo compiere, accogliere Gesù, come colui che viene ad amarci fino alla morte e alla morte di croce, che prende su di sé le nostre colpe, le addossa su di sé, paga a Lui. Il colpevole viene reso innocente, viene giustificato, viene reso puro davanti a Dio, come ci ricorda San Leone Magno, che Gesù, appunto, è venuto a renderci tali quando noi accettiamo di accoglierlo nella nostra vita. E molti si chiedono, come possiamo noi corrispondere alla grazia di Dio? Il Signore vuole stabilire con noi una relazione, una relazione guastata dal peccato di Adam ed Eva, ma Dio non ha abbandonato l'uomo. Ci ha chiamati a vita nuova attraverso la fede nel Figlio suo, Gesù Cristo, è attraverso l'obbedienza a Gesù. E il primo gesto che tutti dobbiamo compiere è quello di aprirci a quell'amore, confessando la fede in Lui e accettando che Gesù si prenda il nostro peccato, per cui la colpa non ci appartiene più. Noi veniamo giustificati nel suo amore misericordioso. E come coltiviamo noi questa relazione? Nello Spirito Santo. Dio fa comunione con noi e non siamo noi che andiamo a Lui a dargli qualche cosa. Come dice il profeta Esaia, ripreso da San Paolo nella Lettera Romana, chi ha dato mai qualcosa a Dio per primo, così da riceverne il contraccambio. È Lui che ci ha amato dall'eternità, ci ha creato per farci eredi della Sua gloria, per portarci nella vita eterna. Allora è che la nostra risposta è quella di accogliere il Suo amore per vivere in comunione con Lui. E come viviamo questa comunione? Professando la fede? È attraverso l'amore, attraverso la preghiera. E la prima preghiera che Dio gradisce è la nostra vita aperta a Lui. Prima che noi diciamo qualcosa, Signore, Lui gradisce che noi rispondiamo al Suo amore, ci apriamo il Suo amore, viviamo nel Suo amore. Nel Vangelo leggiamo che Gesù vede una donna che dona quel poco che aveva, alcuni spiccioli, tutto quello che aveva, lo butta nel tesoro del Tempio e Lui la note perché non ha dato molto, ma perché ha dato tutto quello che aveva, per la gloria di Dio. San Paolo scrive, Dio ama chi dona con gioia. Dio non ha bisogno che non gli diamo qualche cosa perché tutto è Suo. Se gli diamo la frutta, ma l'ha fatto crescere Lui, se gli diamo delle offerte, ma la ricchezza è dono della Sua grazia, che cosa gli dobbiamo dare? Amore. Se dobbiamo pregare, aprende il cuore al Suo amore, corrispondendo al Suo amore. Questo è quando Dio chiede. Per questo, Signore, fratelli, non bisogna dare ciò che ci avanza. Vedete nella scrittura, quando il Signore prescrive attraverso Mosè come dare le offerte a Lui, dici che a retondo non vuole gli avanzi, ma le primizie, le cose più preziose. Ecco allora che tra gli antichi c'era un'abitudine, quella di offrire a Dio il primo figlio maschio. Era un atto coraggioso. Ricordate quando Abramo cercò di sacrificare Isacco, i signori ce lo proibì, per mezzo dell'angelo che dirivelò che Dio gradiva la generosità con cui offrivo col figlio tanto atteso, ma non voleva l'offerta del figlio, il sacrificio del figlio. Però guardate la generosità di Abramo. Dà a Dio la cosa più cara che aveva. Questo si chiama sacrificio di Isacco. Tu prova a chiedere a te stesso qual è la cosa più cara che hai. La salute? Donale al Signore. La vita? Donale al Signore. Hai degli effetti? Donali al Signore. Sei legato a delle persone? Donali al Signore. Signore non vuole gli avanzi. Vedete che tante volte noi preghiamo per ricevere qualche cosa, per ottenere qualcosa. Ma prima di tutto, se vogliamo dare gloria al Signore e prestare il culto, diamogli quando di più chiaro abbiamo. Tu sei. Hai caro la tua salute? Donala al Signore. E vivere la tua salute è come una cosa che non ti appartiene, ma che appartiene a Lui. Hai una professione? Donala al Signore. Al Signore dobbiamo dargli le cose più care che abbiamo, le cose più care, perché Dio non vuole le cose. Tutto appartiene a Lui. Vuole il nostro amore, la nostra vita. Ecco allora, fratelli, che quando noi ci apriamo a quest'amore, allora tutta la vita diventa una preghiera, perché tutta la vita è protesa con amore verso il Signore. Non sono le cose che recitiamo, che ci fanno pregare, quando è piuttosto l'amore che accogliamo da Lui e l'amore con cui rispondiamo al suo amore, per vivere in quella comunione piena di amore nello Spirito Santo. Signore Gesù, Tu hai donato la Tua vita al Padre, per la Sua gloria, e di fronte alla passione non sei fuggita. Nella storia della Chiesa, tantissimi migliaia di cristiani hanno dato la vita a Te, hanno accettato di morire piuttosto che tradirti. La loro vita è stato un sacrificio gradito, il sacrificio più bello, l'amore spinto fino alla morte, e oggi loro vivono nella Tua gloria. Vivono insieme a Te, regnano insieme a Te, perché insieme a Te hanno combattuto, insieme a Te hanno vinto le ostilità di Satra e del mondo. Oggi Ti preghiamo, Signore, rinnovi in mezzo a tutti noi lo spirito di amore, di totale appartenenza alla Tua grazia. Tu non vuoi le cose, vuoi il nostro cuore, vuoi la nostra vita, vuoi che accettiamo il Tuo amore e che viviamo per amore Tuo, e che ogni cosa svolgiamo per amore Tuo. E questo è il culto che Tu desideri, che Ti diamo l'ode e Ti benediciamo, offrandoti quanto di più caro abbiamo nel nostro cuore, per glorificare il Tuo nome. A Te Gesù sia gloria, gloria e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Tu hai amato il Figlio Tuo, e nella storia della Chiesa hai guidato tantissime anime a donarsi a Gesù che incontra Te. Non può fare a meno di scoprire il Figlio Tuo, Gesù Cristo, e di appartenergli, e di vivere per Lui, con Lui. Vergine Santissima, guida tutti noi questo amore verso il Figlio Tuo, Gesù Cristo. Facci scoprire fino a che punto Lui ci ha amato. Nel Tuo amore di madre noi scopriamo il Suo amore, che ci introduce col cuore divino che è stato trafitto per i nostri peccati, adonà tutto a se stesso, con gioia e con amore. A Gesù sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, caro fratello, cara sorella, vuoi lodare il Signore? Vuoi prestargli culto? Non dire mai, vada a messa quando c'è tempo, prego quando c'è tempo, o quanto mi sento, quanto voglio. No, a Gesù non si danno le voglie, a Gesù sarà il meglio di noi stessi. Il tempo è più prezioso, gli affetti più preziosi, le cose più preziose al nostro cuore, non preziose secondo il mondo. Allora è qualcosa che vale in questo mondo quanto al denaro, ma Dio gradisce l'amore. Il bene più grande è l'amore, perché Dio è amore, scambia amore con noi. Cerca quest'amore, vivi in quest'amore, offri quest'amore. E' il bel sacrificio che puoi offrire al Signore, che è molto tanto gradito a Lui, a cui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.